I can hear her heartbeat for a thousand months Con Fabio Maiella nella splendida cornice del Galassia Park Hotel per presentare un'iniziativa che si sposa con il momento storico che stiamo vivendo, che stiamo attraversando c'è la crisi e il Galassia vuole essere ancora una volta dalla parte di chi soffre questa crisi ma non vuole rinunciare all'eccellenza nella cerimonia Sì, nella gamma dei banchetti degli anni avveniti, quindi 2012-2013 abbiamo inserito anche il menu che l'abbiamo definito anticrisi praticamente offriamo un pacchetto per un minimo di 100 invitati con un aperitivo all'esterno un antipasto mari e monti, due primi o quattro assaggi di primi, due secondi, uno di mare e uno di terra la frutta e la torta addirittura a 59 euro e per chi dovesse e volesse prenotare entro il 31 di dicembre di quest'anno abbiamo anche l'omaggio dell'accompagnamento musicale, insomma un'offerta crediamo molto aggressiva Ecco, sicuramente non si dovrà rinunciare a nulla No, principalmente alla qualità e su questo insomma ci tengo a ribadirlo alla qualità del servizio, alla qualità tavola insomma a una qualità tutto tondo che comunque non potrà mancare perché questo sarà uno dei menu che si affiancherà a tutta la sfilza di menu che abbiamo disponibile in azienda Ecco, le prenotazioni possono essere già effettuate per il bienio prossimo a partire da oggi A partire da oggi al 31-12 c'è questo tipo di attività con questo tipo di taglio sui prezzi e su questo tipo di offerte legate anche all'accompagnamento musicale Ne faremo anche delle altre che nei prossimi appuntamenti vi informeremo Ecco, apriamo anche una parentesi su Villa Eleonora perché si arricchisce di un altro dettaglio per la tavola Sì, noi oltre che a Villa Eleonora abbiamo il famoso espressamento Illy che è un bar con la pasticceria di nostra produzione fortunatamente anche quest'anno siamo il primo espressamente Illy in Italia quindi all'interno della catena Illy rappresentiamo un punto di riferimento abbiamo aggiunto anche il ristorante alla carta con una cucina a vista quindi fra poco, entro settembre partiremo con la cucina a vista e in quel contesto si potrà anche scenare preferibilmente su prenotazione tutti i giorni e si potrà insomma godere di un altro punto di ristorazione al Galassia Insomma, al Galassia Villa Eleonora per tutti i gusti, per tutte le esigenze Grazie a tutti